Purtroppo stanno ritornando le auto in piazza del popolo. Devo dire che era stato un percorso portato avanti dalla precedente legislatura dove si erano riusciti tutti in accordo a evitare che le macchine parcheggiassero in piazza. Ovviamente non parliamo di macchine solamente di solo i cittadini, ma parliamo delle macchine molto spesso di enti o diverse istituzioni. Io penso che questa cosa non sia corretta e quindi ho invitato ieri, mandando un messaggio sia alla prefettura sia al questore, dove ho invitato tutti a rispettare quella che è l'ordinanza e far sì che le macchine non siano parcheggiate in piazza. Mi riferisco sia alle auto di servizio, ma soprattutto alle auto del singolo personale che magari sta riprendendo l'abitudine a fermarla in piazza. Io ricordo sempre che la città di Pesaro è una città dove ad oggi è presente un parcheggio scambiatore gratuito con una navetta gratuita che trasporta le persone fino in piazza. È un servizio che poche città in Italia, secondo me, danno, cioè tutto gratuito. E quindi invito tutti, soprattutto le istituzioni, a rispettare quelle che sono le regole che come Comune ci siamo dati.